sei pronto sono prontissimo sei pronto sono prontissimo sei pronto no ok ciao ciao ci rivediamo un'altra volta ma tu già iniziato di nuovo imbruglia no no fe ti prego no mi ero impegnato tanto a fare questo che cavolo ma scusa ma aspetta no fefe qua è successo un memoriello aspetta tu hai rotto un blocco sì no ne ho rotti due eh vabbè questi però sì tu ne hai rotto uno e io l'ho ripreso no sì perché ne ho 16 adesso perché me li tengo me li da un bug me li tengo me li tengo che stiamo già tergiversando sì fai quella cosa che devo fare come che devo mettere il timer sul mio e metti il timer sul tuo smartwatch perché perché l'altra volta ho letto sotto i commenti di mario perché li e stanno ma perché belle gm io ma guarda mamma mia io mi riterrei offeso e non guardare il video di stefano ho letto che praticamente quanto fa rumore sta cosa diventa che la usi senti ho letto va bene il video era durato un pochettino tanto tanto e non andava bene eh sì eh sì ma aspetta ma io sto registrando sì che sto registrando nameless ma sì ma sì ma 4 ma hai fatto partì sto cronometro che sto aspettando a te pariti ma ti immelo no che io non ho iniziato a far costi a me ho fatto la sede sto con la sede no perché non funziona più mario mister non te lo dico 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 si è rotto non si è rotto niente ah no non essere rotto perché ho sbagliato io ho messo quella non lavorata da aspetta in che senso quella non lavorata voglio fare una cosa bella con la sandstone eh sì ma in che senso quella non lavorata quella non ci sei led ah la stai cisellando esatto ah ecco 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 va bene 1 2 3 4 ah ma aspetta ma io me l'ero preparato questo legno che ho in mano però l'ho messo nella cassa e quando tu l'hai rotto per terra mi si è teletrasportato in mano in che senso scusa ma tu stai legno cioè ma tu stai uguale all'altra non va bene non è uguale all'altra è diversa è identica guarda quella è la mia però guarda non ho le frecce eh la vedo è molto bella casa che vince non si cambia no 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 non hai vinto ma hai letto i commenti io non ti è scritto la casa di stefano fa schifo perché stefano gioca poi fa il server da solo cosa che ho fatto ma io lo so nameless ma ti pare una casa questa per piacere io sto commentando la tua no e fai bene a non farlo non sape più sand come è fatta così vedi che bellino aspetta 1 2 3 4 5 ma lei sa contare no no sa contare mi sto tipo impicciando il roppizio ma la sento non funziona qui dentro o no ma io c'è una working bench no però la faccio dai sacrifico si sacrifico 4 dei miei legni te lento te lento è la faccio io però la metto qua te lento ma dai ti sembra un posto io lo faccio così tanto quella non cade allora come posso farla questa casa mario 9 per 7 42 ok e se ti dicessi 7 per 2 42 più 6 per 2 42 più 63 42 più 63 e fa 14 26 26 ma non mi hai fatto risalve niente tu questo 26 mamma mia mamma mia non c'è proprio appare 26 ecco qua no vabbè no non c'ho non c'ho abbastanza materiale che abbiamo scavato poco lo farò di sabbia lo farò di sabbia ma fallo di quello che ti pare basta e lo fai c'hai una pala c'hai una pala c'hai una pala c'hai una pala me la faccio me la faccio mamma mia non ho pale no ce l'ho le pale ti e te la dovi qua no no tu le pale non ce l'hai no ce l'ho le pale no no non sei coraggioso queste cose non si dicono come non hai le pale non si dicono eh ma come fai a scavare la sabbia senza le pale mi sto giudicando nessuno mi può giudicare nemmeno tu ma così ti stregano il canal ma guarda tu fai sempre le cose in grande no grande non è meglio non è grande eh guarda qua qua ci può questo è un bilocale è un bilocale questo ok faccio uno locale adesso eh fai l'uno locale faccio uno locale guarda lo cambio guarda sto cambiando lo vedi va meglio facciamo meglio piace adesso non ti sto guardando dai ma perché non mi guardi non mi guardi mai ma che cosa era guarda che bella cosa ti facciamo guarda qua vuoi una patata no grazie no no non la voglio la patatona cosa era questo scusami io che ti dico che non voglio le patate guarda qua che ti faccio che fai la non te lo dico perché tu ti chiami rodolfo non mi chiamo rodolfo non dire le cose non vere please e io dico le cose solo vere una cosa importante io mi sono rotto le scatole di camminare fino qui ogni volta e allora la potevi fare con legno tuo la potevi fare la metto qui oh guarda è bella qui ma io non ho capito a te a che cosa ti serve poi sta sta cosa sta workbench con la sabbia ho fatto la cut stone e non lasci i thread ooooh mi piace l'ho sbagliato ho sbagliato di sé nameless ho sbagliato perché ma come faccio a rimediare i miei errori oh io volevo fare i miei slaps solo che ho messo quella working table e ho cliccato quella per sbaglio voilà ma guarda qua che fortezza ma se io faccio così però vorrebbe venire qualcosa di carina si la sassata agli occhi non è vero guarda ora ti faccio vedere che ti faccio e fammi vedere va ho metto un'altra qui no questa è la cut io ho già messo anche la porticina ma come fai a stacchi avanti perché io uso gli axe devi capire che io uso i trucchi ma non va bene non te l'hanno mai detto e poi c'è le persone che piangono per questo a me piace quando succede no è una cosa cattivissima non so perché ho messo sta cosa qua ma credo che ce la lascerò che altri blocchi ho a mia disposizione oh ma hai fatto cade sotto ma non è vero però se l'avessi fatto sarebbe stata una cosa brutta va bene mi sono pure con le parole dopo va bene ok ti volevo fregare i blocchi ma c'hai gli stessi blocchi miei eh non lo so nameless sono un po' confuso potrei fare questo perché? però mi fa un po' schifo ma stavolta alla fine episodio facciamo una cosa che non abbiamo fatto altra volta ovvero far vedere la casa eh vabbè ma perché tu prima nell'episodio scorso ci hai messo tipo due settimane e mezzo scusa sono stato un po' lento hai fatto praticamente la ditta di costruzioni la ditta di costruzioni nell'episodio 24 abusiva no si può dire abusivo no perché non sto di San Felice ma non fa citazioni ma tipo arrivano tutte le ditta abusive di San Felice da noi aspetta ma siamo dei babbalucchi cioè? stiamo nel deserto e quindi? eh e quindi eh e quindi molte fovere io e quindi mi stavi picchiando? no non mettermi le mani addosso ma sto craftando mi lasci giocare a questo videogioco in santa pace per favore? no eh che cavolo nameless come scusa? le parolazioni sono ammesse ho detto cavolo un frutto tutti sanno il cavolo non è un frutto si che lo è ok non lo è si che non lo è ok non lo è si sbagliato ma dio chi ha sbagliato? tu racconta di nuovo ma guarda che che bozzolo di però no ti dirò ti dirò come ambiente ci sta perché sembra tipo una cosa una rovina no? no sembra tipo una spinge una spinge oddio sfinge non l'avrei mai detto avrei detto una rovina una cosina anche io non l'avrei mai detto ma semplicemente che non so dire ah ok va bene aspetta come si fanno a fare scale ho fatto delle feste invece delle scale stavano fa e mi sto ignoriamo con tutti gli figli ignoriamo questo dettaglio ok facciamo finire non è mai successo niente ah io li faccio di questo le slabs oh non mi devi chiamare con il mio secondo nome qual è il mio primo nome? Mario non dirlo tutti cioè non tutti sanno che io mi chiamo Mario Maria Mario Maria Mario no quella è una citazione ah ma che cavolo ogni cosa diciamo sono citazioni quanto pare si perché sei stato zitta? oh mi devi fa craftà eh io a te non ti vengo a fare tutte ste domande vorresti non urlare nel mio video per piacere va bene mi scuso mi scuso mi scuso facendo cose f*** cioè fan molto divertito che spoggia a 9 minuti e 20 potrei aver rotto l'esistenza lì un attimo che vorresti dire scusi nulla di che nameless nulla di che allora comunque adesso io farò una cosa molto molto bella ah 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 ma scusa beh non me l'aspettavo andasse a finire così questa cosa aspetta aspetta cosa non posso guardare non devi guardare no ma mi stai ruba l'idea ma perché succede questa cosa ma aiuto oh mi stai ruba l'idea non è vero è il suono del furto dell'idea no non è vero ah ma perché qua non è bucato e quindi non capisce che deve andare solo nei buchi forse non è vero non capisce proprio niente questa acqua ma non sei capace lasciami giocare sto gioco per favore io a te mica ti vengo a guardare ah ma aspetta no aspetta no no cosa hai della stone non c'ho niente io ho finito tutti i materiali come faccio non è vero ecco qua ecco qua nameless 24 sai chi altro si chiama 24 chi tu chi vorresti rispondere se faccio delle domande ma ho detto tu perché non mi senti sei diventato sordo sì non te l'ho mai detto eh allora questa sarebbe una cosa bella se non facesse schifo che cosa casa mia questa è casa mia vedi quello sono io ma che è una canzone di quel gruppo bravissimo che si chiama tipo i Dari no quelli sono i Dario i Dario Daria Dario Daria Dario oh guarda qua finalmente ce l'ho fatta a fare questo coso allora a quanto restiamo del timers ah ci abbiamo ancora un pochetto dico io quando ho finito non è che mi dici tu quando hai finito come ti pare piace perché menti che mi viene un'idea geniale e ti prendo appalate aiuto io staccionate hai fatto la rima ma non è una rima si fa rima con prediletto il piatto di Roberto allora qual è la cosa che più dà fastidio nel deserto stai ma io adesso esco dal gioco no qual è la cosa che più dà fastidio nel deserto stai cosa il lo so so sole oh vedi che quando ti ci metti quindi una cosa bruttissima per una casa sarebbe avere un tetto di vetro dove passa il sole no e tiro casa mia non è male no no è malissimo è peggio di male dai ma non è vero guarda qui che ti sto a fare o comunque a me sti mattoncini qua mi fanno proprio impazzirmi impazzirti? sono troppo belli non ci sta niente da fare è incredibile aspetta voglio vederli voglio vederli aspetta mi dai un consiglio per piacere certo Stefano io sono pronto a darti i consigli su tutto dimmi pure su cosa vuoi consigli dimmelo pure mannaggia come ti vengo a portare un cactus oh no ti prego adesso vado da questo altro cactus no dimmi sto consiglio non ti posso menare col cactus no col cactus che mi puoi menare ahio chiedimi il tuo consiglio cioè chiedimi eh ma non niente non mi è riuscito va bene va benissimo forse è meglio oh ma questa è l'entrata burbera guarda questa si entra così sono a casa tesoro ma mi chiedi sto consiglio che volevi ah che vorrei messo a posto aspetta oh che vorrei messo a posto della sabbia qui eh non lo so cioè a me piace fare tipo che ne so vedi di solito ci metto le cose di legno scusa come ti piace fare a te perché è tipo che mi dà l'idea di struttura portante no il legno il troncone figo e poi sotto ci metto la stone o i blocchetti di stone che mi danno sempre l'idea di cosa portante poi al centro magari ci metto il legno esatto non so che ti ho fregato quindi non te lo ridò era tipo sand ma non mi serve più ormai è tutta tua la sabbia mangiatela ma lo sai che ti mangiavi lasagna 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 da piccola che schifo che schifo allora non ho usato venendo questi blocchi qui quali? scusatemi però cioè ultimamente ho questa tosse tosse da maschio quella ce l'ha avuto la pubertà ma quella ce l'ho sempre avuto a nameless c'è una porta nera? sì come faccio a fare le porte nere? senti calmina se non siamo mai stati nel sono mancato ma è mancato cavolo perché riso? per nascondere un fattaccio che fattaccio? eh non te lo posso dì è un cheating? è un hacking è un hacking? intenzionales adesso mi faccio un'altra comunque mancano altri e zero minuti un minuto eh un minuto io lo sapevo e tu mi dicevi che mancava poco guarda qua mi stai a me la porta il tempo scorre posso fare sto multipolle allarme? però lo devi fare a denti stretti come vuol dire a denti stretti? come con me vuol dire a denti stretti? a denti così devi fare lo senti che è impossibile tu sei impossibile è bene cucciolo mamma mia a me è arrivata una vampata di cringe che è proprio una sassata allo stomaco ma che cosa è successo? ma tipo ah perché tocca il touchpad quando gioco quindi mi fai blocchi come gli pare sai che tocca il touchpad? oh mamma mia mamma mia dovremmo fare dei video muti tantomeno è meglio sai è veramente una cosa migliore ah che diamine è vero è vero è vero è vero è vero mamma mia ma un tempo parlavo bene ma non è vero ma non è vero mai no un tempo parlavo bene poi ti ho conosciuto e ne sto lì in papidario che ti ho visto ho fatto ma se ci conosciamo da quando eravamo dei girini nameless da quando stavo ancora nello stagno nello stagno oh ti ricordi quando stavano le rane cavolo eh bei tempi bei tempi le rane è anche una canzone dei bostelli ti conosci? eh no eh davvero sono molto bravi davvero chi conosce conoscere bostelli metta l'emoji di una rana nei commenti e dica ma metta l'emoji di una stella no no perché le stelle? bostelle no ma la rana è per la canzone dei bostelli oh senti ah ah ti ho fatto sei caduto vittima della mia burla ah 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 ma eh io non ti vorrei di niente però anche tu oh no ho venduto fuoco alla cosa sbagliata no sta bruciando il coso ah 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 che da qua sotto non lo vedevo ehm eh comunque eh abbiamo finito eh perché avevi detto che mancava un minuto da un minuto esatto allora mo facciamo quella cosa e giriamo attorno alle case eh si aspetta però voglio fare l'ultima cosa eh che è il bagno esatto vorresti guardare per piacere mentre fai della cacca esatto si vuol di cacca ma che cotto è questo è una spinge guarda allora valutiamo prima la tua eh facciamo un giro intorno guarda seguimi la musica anni 80 allora possiamo ammirare delle feritoie dalle quali si vede sai perché mi piace è che sembra tipo un elmo attivo oggi in un certo senso ma è uscito scritto che non volevi vivere nello stesso mondo di me cioè nel mio stesso mondo ma è che davvero si allora no ci ho messo sette giorni per metterlo comunque vieni qua ti faccio vedere anche com'è dentro no ti stavo a dire comunque è bellissimo qua ma mettici per un naso tipo un furuncolo ma stavo stavo a pensare se farlo di nuovo oppure no però no no perché stai fermo ok poi qua abbiamo una lanterna per dare il benvenuto agli ospiti io sono ospite prego entra siamo per messa ecco vedi qua abbiamo un tavolino molto carino e qua abbiamo una fornace è bellissimo pure il tetto sai ti piace? si molto eh l'ho imparato a rovereto a farlo così è perfetto che così no? quanto di giorno ti vuoi difendere al sole? eh tu ti metti qua dentro i becchi di insolazione e friggi adesso fammi vedere questo vabbè puncica pambola aspetta mi sei abbagherato il sole mi tremava tuttissimo perché ci avevi freddo allora guarda qui ho voluto adottare un look un po' sfinge ahah certo salto nella lava fallo anche te allora ho messo queste feritoie qui ahah ahah qui mi corro ahah ho messo qui poi c'è l'entrata secondo me è molto carina prego entra ah vedo anche un cartello bello bello guarda hai messo pure delle serie così possiamo mangiare mi posso sedere visto che su minecraft non ci si può sedere che bello ahah hai fatto oggi una volta bellissimo e poi c'è anche il piano di sopra dove qui puoi affacciarti vedere casa tua il pozzo e la bellezza del mondo guardami ah svegli la bellezza del mondo era intesa te si ah